Tre giorni di sport a livello mondiale a Bormio con i campionati iridati juniores di short track che vedono in gara sull'anello del palaghiaccio 175 atleti provenienti da 37 nazioni. Talenti di valore assoluto già in qualche caso in grado di primeggiare anche fra i seniores. Per Bormio storica fucina di campioni del pattinaggio su anello corto, una vetrina prestigiosa e un banco di prova interessante per testare tutti gli aspetti tecnici e organizzativi che fanno capo in questo caso alla Bormio Ghiaccio connessi ad un grande evento sportivo, il tutto in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026. Una manifestazione che consente anche al territorio di cominciare a fare rete e a strutturare un impegno che va al di là dei campionati, ad esempio con tutta una serie di eventi collaterali fondamentali per migliorare l'attrattività come concorsi di pittura e creatività, esibizioni musicali, spettacoli di strada. In prima fila anche l'Istituto Alberti, impegnato a pieno ritmo nel fornire il servizio di catering, tre giorni di pranzi per oltre 300 persone più il party finale di domenica sera. Intanto la prima giornata di gare ha fatto già registrare due nuovi primati mondiali con il cinese Zhang e il russo Balbekov, una dimostrazione anche della perfetta pattinabilità della pista di Bormio, rinomata in ambito internazionale per il suo ovale da record. Occhi puntati naturalmente anche sugli atleti di casa. In primis Elisa confortò la portabandiera azzurra alle recenti Olimpiadi giovanili di Losanna e l'anno scorso fra i testimonial della candidatura a Cinque Cerchi di Milano Cortina. Con lei la Valtellina palpita per Viola De Piazza e Lucas Pechenhauser, tutti talenti cresciuti nel Bormio Ghiaccio e nati proprio su questa pista.